Lega Autonomia ha presentato a Palazzo Lascaris la pubblicazione 50 pagine, il gioco d'azzardo e la ludopatia, i comuni entrano in gioco, uno strumento pensato per supportare le amministrazioni locali nella lotta alla ludopatia. Proprio recentemente l'Assemblea regionale ha approvato il testo unifico sulla prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico in Piemonte. Tra le novità più rilevanti, la previsione del piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza. Il quaderno delle autonomie, 50 pagine sul gioco d'azzardo e la ludopatia. Proprio mentre a Roma si discute nella conferenza unificata, governo, regioni e autonomie locali di come regolare alcuni aspetti e la regione Piemonte attraverso la legge 9 del 2016 ha chiesto ai comuni di fare ordinanze e regolamenti, ci sembrava importante fornire alle autonomie locali e un supporto su questa tematica che è molto sentita nei nostri territori.